Omicidio Fiandaca, sendenza della Corte d'Assise di Caltanissetta, condannati all'ergastolo i quattro imputati. Controlli dei carabinieri a Gera nell'ambito dell'intensificazione dell'azione di prevenzione dei reati decisa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Senso orcivico del Comune, l'assessore Lamenta annuncia che il servizio di segnalazione verrà riattivato entro il prossimo anno. Sospiro di sollievo per i lavoratori del centro di Piannellago, dopo le giornate di sciopero arrivano tre stipendi pregressi. Bentrovati in studio con l'edizione di oggi del telegiornale Omicidio Fiandaca, sendenza della Corte d'Assise di Caltanissetta, condannati all'ergastolo i quattro imputati. Sentiamo i dettagli nel servizio. Condannati all'ergastolo tutti e quattro gli imputati per l'omicidio di Giuseppe Fiandaca, ucciso a colpi di fucile il 13 febbraio 2018 nelle campagne intorno a Riesi. Così è deciso la Corte d'Assise di Caltanissetta al termine di una lunga Camera di Consiglio, in linea con le richieste avanzate dal PM Davide Spina al termine della requisitoria. Il carcere a vite è stato inflitto a Pino Bartoli, 35 anni, Michael Stephen Castorina, 33 anni, Gaetano Di Martino, 39 anni e Giuseppe Antonio Santino, detto Lucignolo, di 34 anni. Secondo una prima ricostruzione, alla base dell'omicidio di Fiandaca, che all'epoca aveva 38 anni, vi sarebbero dei contrasti per questioni di droga, ma nel corso del dibattimento sono state esplorate anche altre piste, compresa quella passionale. La Corte, accogliendo anche le richieste dei legali di parte civile della famiglia Fiandaca, gli avvocati Giovanni Pace e Walter Tesauro, ha concesso una provisionale da 50.000 euro per i genitori, la moglie e i figli della vittima, e da 30.000 euro per il fratello e le sorelle, oltre al risarcimento danni che verrà quantificato dal Tribunale Civile. Gli avvocati difensori, Vincenzo Vitello, Adriana Vella, Michele Ambra, Giovanni Maggio, Angelo Asaro e Ivan Truppi, avevano chiesto l'assoluzione dei loro assistiti. Se ne riparlerà in appello. Controlli dei carabinieri a Gela nell'ambito dell'intensificazione dell'azione di prevenzione dei reati decisa dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Sette persone sono state denunciate dai carabinieri per accuse di varia natura nel corso di una serie di controlli eseguiti a Gela, dopo che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza aveva deciso una particolare attenzione a seguito delle sparatorie delle scorse settimane. Le denunce sono scattate per due giovani, uno di 23 anni e l'altro di 32, trovati in possesso di un coltello a serramanico ciascuno. Guai anche per un uomo di 66 anni che aveva con sé 5 cartucce per pistola calibro 7,65, per un 35enne che nel corso di una perquisizione in casa è stato sorpreso con 7 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Denuncia anche per un 21enne che teneva in auto una mazza da baseball, oltre a poco meno di 5 grammi di hashish, e che nel corso del controllo ha anche minacciato gli investigatori. Un ragazzo di 16 anni è stato sorpreso alla guida di un motociclo, pur non avendo conseguito alcuna patente, sul mezzo viaggiava un 18enne, ma non contento ha anche cercato di sfuggire all'alt dei militari, dando vita a una fuga pericolosa per sfuggire loro. Denunciato anche un 25enne per essersi messo alla guida della propria auto con un tasso alcolemico superiore alla norma. Nel corso dei controlli sono stati controllati in totale 239 automezzi, elevate 46 contravvenzioni al codice della strada, ritirate 7 carte di circolazione e identificate 479 persone. 38 le perquisizioni personali eseguite, al termine delle quali sono stati rinvenuti circa 9 grammi di hashish, poco meno di un grammo di marijuana, 7 grammi di cocaina, 3 spinelli, 2 coltelli, alcune munizioni e una mazza da baseball, per cui al termine degli accertamenti sono state segnalate alla prefettura 10 persone quali assuntori di sostanze stupefacenti, all'autorità giudiziaria 7 persone, 3 per polto illegale di armi o oggetti atti ad offendere, 1 per detenzione illegale di munizioni, 1 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, 3 per resistenza e 1 per guida in stato di ebrezza. Inoltre è stata disposta la sospensione delle attività produttive di una trattoria di gel, il cui titolare è stato multato per 3.000 euro per carenze igienico-sanitarie e strutturali. Inoltre sembra che non venissero correttamente applicate le procedure di autocontrollo. Il valore della struttura chiusa e delle attrezzature ammonta circa 250.000 euro. Sensor civico del Comune. L'assessore Lamenza annuncia che il servizio di segnalazione verrà riattivato entro il prossimo anno. Su Sensor Civico, la piattaforma segnalata ci per il suo funzionamento da alcuni telespettatori, su cui i cittadini possono formulare suggerimenti, segnalazioni e reclami su un mappa per il miglioramento della qualità dei servizi offerti e la vivibilità, che in pratica sarebbe la versione digitale di uno sportello 2.0 tra cittadini ed ente comunale, il Comune sospenderà temporaneamente il servizio che sarà potenziato e riattivato entro la prossima estate, come ci spiega l'assessore all'innovazione e alla digitalizzazione Giuseppe Lamenza. Il Comune di Caltanissetta già nei primi mesi di insediamento lo aveva introdotto sperimentalmente per dare un servizio online di segnalazione di eventuali disservizi percepiti dalla cittadinanza, dice l'assessore. L'intenzione reale dichiarata pubblicamente a suo tempo è stata quella di introdurre un metodo nuovo nella gestione della manutenzione. La maggior parte delle segnalazioni, infatti, ha riguardato le manutenzioni stradali e ambientali in città, in grado di rendere più efficaci i percorsi di soluzione delle problematiche quotidiane al contempo di introdurre un rapporto più rapido e diretto tra uffici e cittadino. L'arrivo della pandemia, meno di sei mesi dopo la sua introduzione, ha inficiato l'applicabilità dei processi di lavoro già esistenti, impedendo il corretto svolgimento del piano inizialmente predisposto. Il fenomeno pandemico, spiega ancora l'assessore, ha rivoluzionato la normale gestione di tanti servizi comunali, implicando una incessante e continua revisione dei processi di lavoro per adeguarli all'imprevedibile contingenza delle dinamiche operative, segnalata dai continui riadattamenti necessari a gestire le emergenze, tanto da aver reso attualmente la gestione del servizio un elemento di irriducibile e aggravio della complessità dell'attività amministrativa. E conclude infine, non solo per questa ragione il Comune ritiene opportuno di sospendere temporaneamente il servizio, ma anche in considerazione del fatto che, in virtù dei finanziamenti ottenuti, sia grazie al programma Agenda Urbana che al PNRR, il servizio di segnalazione sarà rilasciato online entro il prossimo anno, integrato nel più ampio progetto di gestione dei flussi informativi tra il Comune ed il suo pubblico, che verrà rilasciato entro l'estate prossima. In una nota, Annalisa Petitto, consigliera comunale, annuncia il Tarra di Palermo all'esito dell'audienza pubblica del 10 novembre 2022 ammesso la parola fine sulla legittima composizione del Consiglio Comunale di Caltanissetta. Accolta in toto la tesi di Annalisa Petitto, assistita e difesa dall'Avvocato Umberto Ilardo, il ricorso dell'ex consigliere Giuseppe Di Francesco del Movimento 5 Stelle è stato rigettato, si legge nel documento. Petitto, che resta pertanto nel civico consesso di Palazzo del Carmine, dichiara di essere molto soddisfatta dell'esito del giudizio, che ha confermato la piena legittimità del seggio in Consiglio Comunale. E adesso torniamo a parlare dei lavoratori di Pian del Lago, sospiro di sollievo per tre stipendi. Sentiamo. Pare si sia risolta ancora una volta la situazione per i lavoratori di Pian del Lago, che dopo le giornate di sciopero a cavallo tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre adesso possono tirare un sospiro di sollievo. Avrebbero infatti ricevuto, grazie all'intervento della Prefettura, le somme relative a tre mensilità pregresse e che non erano state pagate. Una notizia accolta benevolmente dal sindacato. Finalmente un po' di luce alla fine delle tunnel. Per questo dobbiamo però dirlo e ci sentiamo di ringraziare la Prefettura, gli uffici della Prefettura e in primis Sua Eccellenza il Prefetto. Almeno queste persone potranno farsi il Natale, perché sono certo che prima di Natale non prenderanno più nulla. Alla fine c'è da considerare che siamo in cambio appalto, quindi speriamo che con il nuovo appalto le cose migliorino. Noi ci staremo ancora molto più attenti, perché altrimenti è una condizione che non si può protrarre nel tempo. Tre mensilità, vorremmo precisare, sono luglio, agosto e settembre, quindi non è un credito che risale a ieri, ma è già lontano. Siamo soddisfatti perché riteniamo che anche le giornate di sciopero sono state proficue, l'ascolto di Sua Eccellenza è stato accettando proficuo. Dobbiamo dire che il 31 eravamo quattro organizzazioni sindacali, mentre il giorno 2 siamo rimasti in due, ma ci siamo fatti sentire ugualmente. E siamo oggi compiaciuti, finalmente. Sulla questione interviene anche il Prefetto Nisseno, che esprime soddisfazione perché pur tra le tante difficoltà si è riusciti a venire incontro alle esigenze dei lavoratori, precisa la speranza e che la situazione possa trovare soluzioni definitive e più stabili a breve. E adesso parliamo di salute, sentiamo le dichiarazioni del Presidente della Regione, Renato Schifani. Dopo il giuramento del nuovo Parlamento regionale per il Presidente della Regione Sicilia, Renato Schifani, è arrivato il momento di disegnare le coordinate per la formazione della nuova giunta. Ho sempre detto che il mio sarà un governo aperto al confronto con le opposizioni e da parte mia non ci saranno mai pregiudiziali. La giunta, dice Schifani, sarà presentata tra il fine settimana e lunedì prossimo, mentre mercoledì ci sarà il giuramento degli assessori all'Ars. I tempi sono scanditi, sono perentori, occorreva partire e siamo partiti. Con queste parole il Governatore siciliano, a margine della prima seduta della nuova Assemblea regionale siciliana, che ha eletto il Presidente Gaetano Galvagno, ha scandito le prossime scadenze del suo governo. Il Presidente ha intervenuto anche su alcuni aspetti della composizione della futura giunta, in particolare sull'identikit di chi potrebbe ricoprire l'incarico di assessore alla salute. La dottoressa Giovanna Volo, che è stata manager della sanità, riconosciuta e apprezzata da tutto il mondo della sanità pubblica, quindi credo che possa dare un grosso contributo al nostro governo. Una persona che non ha mai fatto politica, una manager competente, credo che possa dare una forte spinta a quelli che sono i temi delicati della sanità pubblica, cioè liste d'attesa, aree d'emergenza, attenzione anche a quell'aspetto privato delle diagnostiche strumentali che potrebbero, se finanziati, ridurre le liste d'attesa degli ospedali pubblici. Tra le parti, come ha ammesso lo stesso Governatore, c'è stato un primo confronto in cui la dottoressa Volo ha mostrato grande disponibilità a rivedere alcuni temi. Non voglio che nella sanità, ha concluso Schifani, ci siano scontri tra pubblico e privato. Non ci devono mai essere steccati quando si parla della salute dei cittadini. Parliamo dell'inaugurazione della strada via Piola Torre, un tratto che la collega via Cinirella, un'iniziativa realizzata nell'ambito del progetto via Mazzini Social Home. E' stato inaugurato il nuovo tratto di strada di via Piola Torre che la collega a via Cinirella, una strada che è stata realizzata nell'ambito del progetto via Mazzini Social Home dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Caltanissetta attraverso il finanziamento dell'Unione Europea e del POFESR Sicilia 2014-2020 nell'ambito dell'azione 9.4.1. L'intervento rientra dunque in un più ampio progetto rivolto ai quartieri Pegni Stazzone e Provvidenza dove si prevede la realizzazione anche di 9 alloggi sociali. Per tutta una serie di problematiche, Covid in primis, abbiamo avuto delle difficoltà a realizzarlo entro i tempi. Tra l'altro anche con alcune difficoltà sorte in zede di esecuzione, cioè di problemi legati al contenimento di alcuni muri, alcune aree che non potevano essere prese in considerazione quando abbiamo progettato la strada, ci ha condotto poi a fare una serie di modifiche o qualche variante che ci ha impedito di consegnare la strada entro i termini. E questo è un passo importante, ritengo, per il quartiere che non è attenzionato, non è stato attenzionato prima, ma lo sarà ancora, perché noi vogliamo creare ulteriori collegamenti infrastrutturali, collegamenti sociali, nonché tecnici, con il resto della città. Ci vogliamo realizzare delle scale mobile, degli ascensori che ci consentono di portare tempestivamente, in maniera veloce, chi abita questo quartiere con il resto della città. L'OIACP si sta muovendo in un'ottica di riqualificazione anche di altri siti di Caltanissetta, di altri quartieri di Caltanissetta, perché ci sono tutta una serie di iniziative tese a recuperare sia degli nostri immobili già preesistenti che sono già abitati e che quindi, usufruendo di una serie di finanziamenti, andranno tutti a regime. E fra le altre cose c'è un'importantissima iniziativa nel quartiere Provvidenza che andrà a completamento di quello che ha fatto il comune di Caltanissetta per conto suo, ma quest'altra è un'iniziativa nostra che noi abbiamo già bonificato un'area dove sono state realizzate delle palazzine che speriamo vengano consegnate fino a novembre. Un lavoro di sinergia con l'amministrazione comunale permetterà di agevolare ulteriormente il collegamento dell'area con il resto della città. Parliamo adesso dell'avviso pubblico per l'affidamento del servizio di gestione della pagina Facebook e di addetto stampa della stagione teatrale musicale del Teatro Comunale. Regina Margherita. Manca poco alla riapertura al pubblico del Teatro Comunale Regina Margherita. Il comune Nisseno ha pubblicato l'avviso per l'affidamento diretto del servizio di gestione delle pagine Facebook assessorata alla cultura, turismo ed eventi comuni di Caltanissetta e Teatro Comunale Regina Margherita Caltanissetta e di addetto stampa della stagione teatrale e musicale 2022-2023 del Teatro Comunale Regina Margherita che inizierà il 28 novembre e si concluderà il prossimo 5 maggio 2023 con lo spettacolo Radici. Il servizio richiesto, secondo quanto si legge nel bando pubblico, prevede fra le altre cose la creazione di almeno 100 post, una media di 3 a settimana, contenenti video, registrazioni vocali o Facebook Live, la pubblicazione di almeno 12 video, una media di 2 al mese, contenenti rappresentazioni, monologhi o spettacoli teatrali al cui eventuale acquisto provvederà l'amministrazione comunale. Il soggetto interessato dovrà formulare una propria offerta a ribasso sul corrispettivo base quantificato in 4.000 euro oltre IVA e oneri. Sono ammessi a manifestare il proprio interesse gli operatori economici in possesso dei requisiti di donità morale e che non si trovino in ognuna delle condizioni di esclusione della partecipazione all'indagine di mercato di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 50 del 2016. In questo caso, però, ancora una volta a destare perplessità e il termine perentorio previsto dal bando entro e non oltre il quale presentare la domanda di partecipazione le ore 10 del prossimo lunedì 14 novembre. Tutele e valorizzazione del patrimonio minerario l'iniziativa Palazzo Moncada. Sentiamo. Con l'evento della tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio minerario e culturale siciliano che è iniziato stamani a Palazzo Moncada è iniziata la tre giorni in cui viene ricordata la strage di Gesù Lungo del 1881 che Caltanissetta ricorderà con una serie di iniziative. All'evendo, presieduto dal sindaco Roberto Gambino dagli assessori Marcello Franciamore a Francesco Nicoletti prendono parte studiosi e professionisti del settore. Non perdere questa memoria storica che unisce il passato non al presente ma al futuro per l'importanza che appunto l'industria mineraria ha avuto qui in Sicilia e adesso quale volano anche occupazionale a livello geo e idrogeologico per appunto il recupero del dissesto oppure ancora per la valorizzazione dei siti minerari dismessi. Siti minerari che per troppo tempo sono stati dimenticati ma hanno sempre quella voglia quella forza di volere ritornare in auge perché fanno parte della nostra storia sono la nostra identità e quindi nel tempo hanno sempre quella necessità di avere il giusto risalto. Siamo oggi presenti proprio per sottolineare un concetto importante che è quello che il territorio va visto nella sua complessità cioè nel senso che vi è stato sempre il protagonismo di singole esperienze di singole esperienze seppur di eccellenza che però non sono stati capaci di creare un valore aggiunto invece con il parco proprio stiamo facendo un'azione sistemica di aria vasta proprio perché pensiamo che questa realtà è complessa inserisce all'interno tanti elementi e solo attraverso l'unione di questi elementi attraverso la sinergia di questi elementi ovviamente si avrà un valore aggiunto. E adesso parliamo del circolo didattico Leonardo Sciascia storie di miniere e di carusi raccontate agli alunni e all'alunne della scuola. Sono state raccontate le storie dei carusi agli alunni e alunne del circolo didattico statale Leonardo Sciascia di Caltanissetta un momento di approfondimento e riflessioni organizzato dalla scuola proprio in prossimità della giornata dedicata alla memoria delle vittime delle miniere. La nostra scuola lavora ai processi di costruzione dell'identità del bambino e del bambino di Caltanissetta processo che quindi deve partire dalle radici e le nostre radici sono diciamo provengono dall'agricoltura e dalla miniera. È importante per noi che i nostri alunni conoscano queste realtà ormai da loro così lontane che però hanno segnato la storia del nostro territorio e della nostra società. A partire da queste realtà loro potranno crescere e sapere da dove vengono. Noi speriamo che progressivamente possano anche attraverso delle uscite nel territorio conoscere realtà mineralogiche importanti come Gabbara per esempio per proprio radicarsi in questo territorio e riuscire ad amare e ad apprezzarlo. Pensiamo che Caltanissetta abbia bisogno di un processo di rinnamoramento nei confronti di un territorio che a volte proprio proprio in Issegni vivono come un territorio estraneo ormai lontano. I bambini hanno assistito alla proiezione del docufilm Brucia come Zolfo ascoltato le testimonianze di chi conosce le miniere di chi quel mondo lo ha vissuto da vicino e chi lo ha raccontato anche in un libro storia di Peppe Caruso di Trabbia. Il documentario dal titolo Brucia come Zolfo vuole intraprendere un viaggio vuole raccontare un viaggio affrontato assieme a quattro alunni di Quinta Elementare che hanno percorso il mondo delle zolfare e dello zolfo fino ad arrivare come ultima tappa al cimitero dei Carusi che si trova qui a Caltanissetta. Oggi ai bambini voglio lasciare che bisogna ricordare quanti hanno lavorato nelle miniere e che purtroppo tanti hanno lasciato la loro vita lì per portare il pane a casa. Naturalmente sappiamo bene che le cose se non vengono alimentate vengono subito dimenticate. Io in particolare sono figlio proprio di un Caruso mio papà all'età di sette anni è sceso per la prima volta nella grande zolfara la zolfara di Trabbia tra Sommatino e Riesi e alla fine ha completato 44 anni di attività mineraria girando diverse zolfare e la mia grande curiosità e la mia grande curiosità da bambino era proprio quello di farmi raccontare i cosiddetti conti di zolfara e quindi addirittura mi addormentavo con questi con questi racconti. Ora ho voluto quindi mettere insieme questi miei ricordi in questo libro Storia di Peppe Caruso di Trabbia Peppe appunto è quel famoso Caruso quindi mio papà Cominceranno proprio in questi giorni i festeggiamenti in onore di Santa Maria della Provvidenza il giorno di festa lunedì 21 novembre quando si svolgerà la processione Comincia nel 12 novembre i festeggiamenti in onore di Santa Maria della Provvidenza una ricorrenza che verrà celebrata però nella parrocchia di San Giuseppe dove in questi giorni è presente una copia del quadro raffigurante La Madonna che ricorda l'originale che si trova nell'altare maggiore della Chiesa della Provvidenza La Chiesa della Provvidenza attualmente non è aperta al culto ha bisogno di restauri soprattutto interni e pare che ci si stia adoperando per poterli ottenere da parte della comunità europea nel frattempo la celebrazione della festa che terremo il 21 novembre prossimo la terremo qui nella Chiesa di San Giuseppe Il giorno di festa il 21 novembre sarà accompagnato dal suono della Zampogna si prevedono inoltre diverse celebrazioni della Santa Messa tra la mattina alle 9, 10 e 11 e due il pomeriggio una alle 16 e 30 e poi alle 17 e 30 celebrazione che sarà presieduta dal vescovo della diocesi Nissena subito dopo comincerà la processione animata dalla banda musicale partendo da Piazza San Giuseppe passando per Corso Umberto Piazza Garibaldi Via Palermo Corso Vittorio Emanuele Via 20 Settembre per poi ritornare nella parrocchia di San Giuseppe una devozione quella verso la Madonna della Providenza che ha una lunga storia così come racconta lo stesso parroco Francesco Pulci lo storico nisseno morto nel 1924 nella sua opera sui lavori ecclesiastici della Chiesa Nissena fa riferimento a un'antica chiesa risalente al 1645 proprio costruita nelle quartiere Zingari proprio perché la città era allora suddivisa in quattro quartieri tre dei quali riportano il nome di un santo questo invece il quarto no il culto risale proprio a metà del 1600 tant'è che c'era una confraternita con il titolo del Madonna della Providenza poi nei secoli seguenti ancora si è incrementato questo culto poi l'antica chiesa fu demolita ne fu costruita un'altra nel 1684 dove i fratelli Francesco e Mariano Salerno hanno dato un paramento in Damasco tutto quanto completo per il culto 1817 già la chiesa fu ricostruita che ha l'attuale posizione che guarda propriamente a prospetto a mezzogiorno e da quel momento ancora di più il culto della Madonna della Providenza si è incrementata in tutta la città di Caltanissetta e adesso parliamo del centenario verghiano Don Gesualdo al Margherita domenica 13 alle 18 e 30 il sipario del teatro Regina Margherita di Caltanissetta si aprirà domenica prossima 13 novembre alle 18 e 30 con Don Gesualdo lo spettacolo teatrale con Alessandro Sparacino Rita Abela scritto e diretto da Lorenzo Muscoso con le musiche di Riccardo Gerbino la pièce teatrale racconta dell'uomo Don Gesualdo dei suoi rapporti sociali delle condizioni della sua vita del suo paese delle sue relazioni la scrittura di questo testo insomma viene da cuore perché comunque essendo anch'io un cittadino del Berghe quindi ho cercato di scrivere questo testo pensando come lui avesse visto questa storia ma andando anche con l'intimità e con l'opportunità del personaggio ma diciamo che è una storia anche un po' diversa da quella che sono state rappresentate fino adesso perché il personaggio focalizza l'attenzione su quelle che sono le relazioni familiari le relazioni di Don Gesualdo con quelle che sono state le donne della sua vita quindi in questo caso Bianca Trao e Diodata e la figlia Isabella quindi un rapporto più intimo che Verga in realtà lo fa lo racconta però non in questo modo quindi ho cercato di trasformare il personaggio dando una più una coscienza quindi una maturazione che poi anche che avviene anche in chiave amaletica Lo spettacolo fa parte di Verga Cento la manifestazione ufficiale nazionale del centenario di Giovanni Verga prodotta dalla Dream World Pictures supportata dal Parlamento Europeo Rai Cultura e Pontificio Consiglio della Cultura gli studenti fino ai 18 anni potranno assistere allo spettacolo gratuitamente La mostra Olisse in Sicilia i luoghi del mito nel nuovo padiglione realizzato nel sito di Bosco Littoria all'interno del Parco archeologico di Gela riapre al pubblico con interessanti e inediti reperti un'opportunità per ammirare il patrimonio archeologico proveniente da vari musei con al centro la nave di Gela databile tra il VI e il V secolo a.C. è rinvenuta nei fondali antistanti la costa di Bulala della città siciliana e quanto si legge in una nota della regione inaugurata lo scorso 22 luglio l'esposizione ha accolto oltre 45.000 visitatori in esposizione ci saranno nuovi oggetti alcuni dei quali inediti che prenderanno il posto del materiale espositivo che è stato restituito ai musei italiani ed esteri di appartenenza in virtù dei contratti di prestito l'integrazione è stata curata dalla soprintendenza di Caltanissetta la mostra resterà aperta fino al 15 gennaio 2023 e sarà visitabile anche durante le festività natalizie e adesso andiamo ad un altro avviso pubblico per la sponsorizzazione della stagione del Teatro Comunale Regina Margherita con l'arrivo dell'autunno riaprirà al pubblico il Teatro Comunale Regina Margherita il Comune di Caltanissetta ha pubblicato l'avviso per la partecipazione alla procedura di sponsorizzazione della stagione teatrale musicale 2022-2023 del Teatro Comunale Regina Margherita che prenderà il via il prossimo 28 novembre e si concluderà il 25 maggio 2023 con lo spettacolo Radici le offerte saranno valutate da una commissione comunale presieduta dal dirigente e composta da due dipendenti da questi nominati e ordinate secondo il criterio del maggior finanziamento e del maggior vantaggio economico complessivo fin qui niente di particolarmente rilevante se non fosse per il termine perentorio previsto dal bando entro e non oltre il quale presentare la domanda di partecipazione le ore 10 del prossimo lunedì 14 novembre soltanto quattro giorni a disposizione quindi con in mezzo il fine settimana per organizzare e formulare la domanda di partecipazione al comune nisseno che offre secondo quanto si legge nel bando pubblico ad un terzo che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari possono partecipare infine soggetti pubblici o privati imprese individuali associazioni fondazioni cittadine ed in generale chiunque in ragione della propria attività si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse pubblico Andiamo allo sport calcio serie D domenica la San Cataldese giocherà sul campo del San Luca una partita difficile ma la squadra allenata da Pietro Infantino vuole continuare a conquistare punti pesanti per la salvezza si preannuncia un match intenso tra due squadre che si trovano a lottare nella zona bassa della classifica ma desiderose di raggiungere al più presto posizioni più tranquille le partite dell'undicesima giornata Catania-Canicattì Trapani-Santa Maria Licata-Acireale Locri-Sant'Agata Paternò-Castrobillari Ragusa-Realaversa San Luca-San Cataldese Mariglianese-Cittanova Vibonese-Lamezia E adesso parliamo della Nissa la società comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica ad Alessio Sferrazza Cancelleri nuovo direttore generale La Nissa comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Alessio Sferrazza una decisione maturata dopo due partite corrispondenti ad altrettante vittorie nel corso delle quali il tecnico Nisseno ha saputo recuperare ad una situazione che si era fatta estremamente difficile nella decisione hanno avuto un peso decisivo la preparazione e la competenza di Sferrazza oltre alla novità tecnica è stato nominato direttore generale Vincenzo Cancelleri che raggiunto telefonicamente ha dichiarato di essere felice per questo nuovo ruolo dove si impegnerà con tutte le sue competenze per il bene della squadra e cercherà di lavorare ad un futuro solido mettendo le basi con l'aiuto e l'appoggio dell'imprenditore Luca Giovannone e spera che presto si potrà tornare a giocare al Marco Tomaselli per il ruolo di direttore tecnico è stato confermato Antonio Emma la società dichiara che le scelte effettuate potranno consentire di proseguire il percorso di crescita del suo talizio Nisseno sono felicissimo dell'incarico ricevuto e ringrazio la società per la fiducia accordatami spero di ripagare al meglio con lo spirito la voglia e la determinazione che mi ha sempre contraddistinto venivamo da un periodo abbastanza negativo fortunatamente abbiamo fatto dei risultati importanti che ci hanno permesso di risollevarci un po' in classifica adesso iniziano le partite quelle più difficili le partite più dure partire da domenica contro l'Enna una squadra che non ha mai perso oltretutto sono andato a visionarla domenica Enna Mazzara e mi hanno impressionato però come ho detto ai ragazzi noi giocheremo tutte le gare per vincere o provarle a vincere poi se l'avversario è più forte stringeremo la mano e faremo i complimenti domenica la Nissa tornerà a giocare in casa ospitando l'Enna in un derby che riporta alla memoria confronti tirati e combattuti anche nell'interregionale degli anni 80 e non solo i biancoscudati puntano alla terza vittoria di fila le partite della decima giornata del campionato di eccellenza Parmonval Mazzarese Casteldaccia Cus Palermo Cus Palermo Leonfortese Fidelis Torretta Fidelis Torretta Basket School Basket School Messina Invicta 9300 CL Cefalù Leonardo Da Vinci Palermo Sant'Agata Capodorlando Bene, era questa l'ultima notizia per oggi non ci sono ulteriori aggiornamenti ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni di Trabi Meteo giornata di sabato con un possente anticiclone sull'Europa centrale l'aria più fresca però con moto retrogado interesserà le regioni del sud nel dettaglio la nuvolosità ci sarà molta variabilità in arrivo sulle nostre regioni più compatta al sud nubi medio-alte invece al centro-nord per quanto riguarda invece le precipitazioni in giornata aggiungerà qualche piovasco sulle regioni del sud anche la Sicilia per questa goccia fredda in quota e infine un'occhiata all'Italia perché sarà una giornata di variabilità e qualche fenomeno al sud meglio al centro-nord ma con nubi medio-alte in transito dettagli maggiori scaricando l'app di Trabi Meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno Caltanissetta servizio diurno al Duomo via Filippo Paladini servizio notturno Marrocco via Rosso di San Secondo a l'unico l'unico a l'unico l'unico Grazie a tutti.